Di Campania Tube, stamattina sono in compagnia della signorina Evelyn. Evelyn, come ti trovi a scuola? Che anno frequenti? Che scuola frequenti? Frequendo la scuola media di Francesco Guarini a Solofra e sto frequentando la terza media. Benissimo, quindi come ti trovi a scuola? I compagni, i professori, ti dispiace lasciarli quest'anno? Sì, perché ho creato comunque un buon legame sia con gli amici sia con i professori. E che strade intraprenderai? Che istituto deciderai di frequentare l'anno prossimo? Non lo so, non ho ancora scelto. Ancora, quindi hai ancora un po' le idee confuse. Quindi durante quest'anno scolastico diciamo che ti impegnerai per chiarire un po' le idee? Sì, sicuramente. Va benissimo, io ti ringrazio, ti auguro buon anno scolastico, fai un saluto agli amici di Campania Tube. Un saluto a tutti gli amici.